messaggi dall'unione sovietica europea attenzione perché come vi ho detto le elezioni del 2024 saranno molto importanti e non dovete sbagliare nulla che cosa cercheranno di dirvi per farvi sbagliare e cosa cercheranno di dirvi per mantenere esattamente la situazione come adesso la prima che cercheranno di dirvi è di non votare se guardate vi posso anticipare che tutti i messaggi relativi al non votare saranno solo ed esclusivamente sotto i messaggi o quantomeno nell'area dei partiti che possono bloccare la situazione vale a dire il gruppo id e il gruppo ecr da tutte le altre parti quindi dai partiti del più europa non troverete nessun invito a non votare cosa porta o cosa comporta il fatto di non votare semplice ci sono tre partiti che hanno uno più chiaro di così anche il nome stati uniti d'europa quindi il più europa al quadrato l'altro si chiama azione il terzo sono quelli della sinistra quelli che per intendersi il partito di speranza avs che sono tutti vicini al 4 per cento in queste elezioni la soglia di sbarramento è appunto al 4 per cento se voi non votate e sareste stati un elettore non di questi partiti diciamo così e quindi è per questo che si va a pescare nell'area del centrodestra non votando le percentuali di questi partiti salgono perché si riduce il numero dei votanti e quindi il percentuale di questi partiti salgono ed è più probabile che loro facciano il 4 per cento quindi non votare è esclusivamente nell'interesse di chi ha un partito che si chiama per esempio stati uniti d'europa non si inverte la rotta così a